ciao ciao ragazzi si torna in albergo la voce la voce l'ho lasciata un po in circuito oggi un po perché ho preso freddo ieri al concerto di eminen c'è un bellissimo tramonto qua alle spalle che arriviamo insieme ma che bello ciao che bello vediamo insieme il tramonto del texas e sembra che la gara sia stata divertente 1 2 ferrari credo di aver detto mi sembra che c'è un nuovo sceriffo in città bellissima gara comunque max norris norris arcocane manca ancora uno zig per essere solido solido e alla mclaren manca ancora qualcosa dal punto di vista della cattiveria sono bravissimi sono bravissime con andrea stella lettura dei dati la macchina e quant'altro però gli manca quell'aspetto di racer di essere animali quando c'è da essere animali ma ci arriveranno e l'importante intanto è che abbiano una macchina che sia competitiva sono leader del mondiale costruttori ci possono restare ma è una bella lotta eh i mondiali costruttori sono dentro in tre diciamo i conti i conti veri li possiamo fare dopo questa tripla una è andata adesso sotto col messico e poi il brasile adesso cambiamo strada perdiamo questo tramonto spettacolare chissà se ci ricompare insomma ci vuole un'oretta dal circuito andare a Austin con con il traffico post gara ma va bene e allora la cosa la cosa incredibile veramente noi abbiamo detto in riunione abbiamo detto prepariamo le immagini della partenza facciamo a rivedere l'anno scorso Max con Charles Russell con Sainz insomma chi parte secondo se ha un buco entra e la cosa incredibile è che Norris era partito bene ma perché non ha chiuso e soprattutto perché poi ha staccato così presto questo non si comprende perché comunque Norris è un bel pilota gran pilota ma forse gli manca quella fame animale che adesso il sole ce l'ho al tramonto ce l'ho in faccia forse gli manca la fame animale che bello guardate come sono fatte le autostrade qua con la stella simbolo del Texas su ogni pilone c'è tanto traffico e forse gli manca essere animale del tutto non lo so però percorso di crescita anche giovane Norris forse dimentichiamo che è un pilota molto giovane così sembro fucsia però lo sapevamo Carlos e Charles lo sapeva e si è infilato dietro a Max è stato lì non appena i due si è preso un po' di spazio largo proprio per stare poi interno e non appena i due si sono accompagnati fuori il passato Carlos ha avuto quel problema che un po' ha fatto sospirare poi risolto però poi strategia perfetta al Ferrari, undercut, gestione gomme, insomma la Ferrari che sembra o la Red Bull o la McLaren dei momenti migliori, il problema della Ferrari è che questi momenti migliori non hanno avuto la grande continuità ce l'hanno bene o male da dopo la sosta considerando che Leclerc ha fatto 98 punti e il pilota che ha fatto più punti di tutti insieme a Lando Norris 98 punti pari, questo qualcosa vuol dire, peccato per quel blackout davvero da dopo Monaco vanno in Canada per fare addirittura vittoria forse 1-2 e escono con 1-0 dal Canada, però direi che ci sta insomma questo non vuol dire che vanno in Messico e fanno 1-2, vuol dire che andiamo in Messico e ci gustiamo la giornata di prove libere per avere un po' il quadro della situazione e vedere chi ne ha di più, le qualifiche ci hanno sorpreso non ci aspettavamo nella qualifica sprint che Russell facesse una prima fila, non ci aspettavamo che Russell facesse una gara così di rimonta dalla pit lane per arrivare addirittura in zona punti, lì a metà classifica della zona punti non ci aspettavamo poi una Mercedes così forte, quindi attenzione perché la Mercedes si mette a posto e può essere di nuovo in lotta anche lei per qualcosa di importante nel tappa per tappa, cioè oggi dire Messico vince la Ferrari, no, Messico vince la Red, no il Messico vince la McLaren, no, ma no, non vincono, no, non lo sappiamo e il bello di quest'anno o di questo momento della Formula 1 che ci porteremo nel 2025 è proprio questo mannaggia quei regolamenti che cambiano nel 2026, ma perché? ma perché? e perché? perché sennò Audi non entrava va bene, poi quindi partenza via, gara gestita con massima lucidità, ma è una sbavatura, ma è un errore muretto box che ha funzionato alla grande, pit stop ha funzionato alla grande quindi direi che è stato tutto perfetto davvero questo weekend per la Ferrari poi possiamo discutere sul fatto che uno fa l'accordo con la FIA per l'ala l'altro fa l'accordo con la FIA per il sistema di movimento del T3 e la prima gara dopo questi accordi c'è uno o due Ferrari, è chiaro che si fa presto a pensare male, però cinque anni fa Max Verstappen diceva diceva la Ferrari è arrivata dietro perché ha smesso di barare, oggi c'è molta più eleganza da parte dei piloti Ferrari che non è che hanno detto Max è arrivato dietro perché hanno smesso di barare e ai tempi Max non aveva alcuna prova così come non c'è alcuna prova oggi, si sa che c'è un sistema ma non c'è alcuna prova che questo sistema l'abbia utilizzato la Red Bull così come non c'era alcuna prova che allora il sistema del flussometro utilizzasse la Ferrari aereo che decolla, scenari da Texas al tramonto che bello, io farei il video solo di questo questi sono momenti per noi anche belli, viaggiamo tanto e nonostante i tanti viaggi e i tanti tramonti visti quando ne vedi uno con un sole così pieno, un cielo così stupendo, vuol dire che Texas quando c'è il cielo sereno è uno dei più bei cieli che puoi vedere nel mondo, c'è veramente un'aria evidentemente molto molto pulita, guarda che spettacolo, ci accompagna verso la città che è ancora abbastanza lontana, adesso passiamo proprio davanti all'aeroporto facciamo un po' di on board camera, passaggio davanti all'aeroporto, un aereo che atterra qua c'è un traffico abbastanza importante, Austin è una città non la più grande del Texas ma è la capitale del Texas, molti pensano che possa essere Dallas o possa essere Houston invece la capitale è proprio Austin, guarda l'aeroporto e poi tu passi con l'autostrada proprio davanti all'aeroporto e c'è un aereo che sta atterrandome un po' lontano che lui sa che noi lo incrociamo nella sua traiettoria di atterraggio, il sole là dietro sta andando a nanna, domani da qui presto la mattina partiamo, andiamo a città del Messico e poi la riprendiamo a lavorare il giovedì, martedì e mercoledì ci metteremo qualcosa, ma sicuramente facciamo qualcosa anche di lavoro, anzi sicuramente perché bisogna preparare la scaletta e tutto il lavoro per il weekend per la squadra, ho uno o due Ferrari, in America non succedeva dal 2006, allora massa Schumacher, allora tre di pietre consecutive però c'erano state quella del 2005 che aveva corso praticamente solo la Ferrari per il ritiro dei gommati Michelin, guarda, l'atterraggio, questo era lontano, ma questo decolla, che atterraggio, questo decolla, poi ho fatto, sapete che questo aereo ha ritirato su, perché questo è il percorso di atterraggio, ci sono pistoli, questo aereo stava atterrando ha ritirato su, quindi sì, non è successo una volta, in Bareina che stavamo atterrando quasi toccato il suolo, l'aereo ha ridato potenza e è ripartito perché c'era un carrellino che attraversava la pista, ora, pullman, ruota a ruota col pullman della scuola, bene, allora dicevo doppietta quest'anno c'era già stata in Australia, è chiaro che dei tre contendenti al costruttore la Ferrari è quella che è stata meno continua se non in questo periodo, sempre in continuità in questo finale e poi i conti si faranno veramente alla fine, fare pronostici adesso è impossibile, mondiale piloti, io credo che non ci sia proprio nulla da fare, però il sognare è lecito, io credo che l'affetto che i tifosi Ferrari abbiano nei confronti delle cleriche per per sciarla è un sognatore, cioè non molla, anche se a mille punti di distacco ci crede, io ricordo le lacrime di Sebastian Vettel quando perse il mondiale con l'arco anticipo contro Lewis e la sua delusione in Messico, rimanendo molto colpiti perché diceva, ma come scusa, ormai il mondiale è andato da un po', lo sai che quello lo vince in Messico, lo chiude in Messico con anticipo, invece secondo me c'è quell'animo lì del sognatore che fino a finché proprio non è scritto la parola fine ci crede, quando c'è la parola fine comunque ti entra tanta delusione e secondo me questi piloti vengono amati dai tifosi perché sognano, sognano insieme ai tifosi. la in fondo c'è Austin, la città, io dico la in fondo c'è e mi passa davanti la trae dell'autostrada, qua c'è un parcheggio qui sotto, adesso vi faccio vedere se riusciamo, vabbè i crattacieli sono là, queste città che accompagnano quasi un po' nel nulla di queste praterie infinite, credo per questo motivo Charles piaccia tanto, divide anche, ci sono anche tanti che non appena fa qualcosa di sbagliato perdono un secondo per scriverlo, ma è giusto così, quando uno è forte, quando uno fa parlare è giusto che ci sia chi lo ama e chi lo apprezza, poi c'è sempre secondo me un comportamento da tenere nella logica della normalità, dell'educazione che molti hanno purtroppo, ma questo sinceramente non è un problema mio. Carlos, poi devo dire una cosa, da sprint c'è stato quel duello, vedendo la gara di oggi forse, forse, senza quel duello tra Sainz e Leclerc, forse potevano pensare di poter fare uno o due anche nella sprint e Leclerc che sogna comunque anche il mondiale piloti, anche se ovviamente come abbiamo detto è impossibile, comunque lì ha perso due punti nella sprint non c'erano ordini, due si sono andati in battaglia, uno aspettava un po' di più di gestire la gomma, l'altro è andato aggressivo, ma è stato un test molto importante, anche l'aggressività di Carlos, per vedere per la Ferrari che la gomma, se non l'avesse fatto con la gara così aggressiva Carlos, oggi la Ferrari non avrebbe avuto il riscontro che con la gomma gialla potevi spingere tanto fin da subito e ti durava bene 19-20 giro, quindi nel bene o nel male comunque è servito anche quello, è servito anche quello forse a dare un po' di push in più a Leclerc che ha faticato, ha faticato anche in qualifica, è arrivato dietro a Sainz tutto il weekend ma poi è stato magistrale, magistrale, è stato master class, master charles facciamo il prossimo tempo, è stato magistrale Leclerc nel gestire tutto, non è mai stato inquadrato, quindi non sappiamo noi guardavamo tutti i settori, i microsettori, ogni volta non mi sembra ci sono mai state delle sbavature si è preso sul tempo giusto nel momento in cui doveva fare i doppiaggi, quindi è magistrale vediamo se adesso la Ferrari trova in questa tripla della continuità, che non vuol dire rifare 1-2, ma vuol dire stare lì e giocarsene Max, ragazzi, ho ribattezzato Maxster class, perché... cioè, allora, io credo che si debba discutere sul suo modo di partire, è lecito, lui non fa la curva e a fare dell'altro e lo fa sempre, non sa benissimo lui se ha metto un Barcellona, un Imola, ci sono mille, ma lo sanno tutti, lo sanno tutti non può non saperlo Orlando però poi, come ha lottato, come se te lo dio, pensavo, arrivasse e non passasse ancora prima di arrivare alla staccata della 12, per quanto era più veloce invece Max ti allunga questa staccata che anche quando pensi allo passato ti ricompare mamma mia, che pilota, che pilota fatemi spendere qualche secondo su Hülkenberg Hülkenberg, io non so come questo pilota non sia mai riuscito a salire sul pod perché veramente se lo merita, purtroppo andrà a vivere un anno molto difficile in Sauber spero un po' meglio in Audi, anche se la sticella delle buone prestazioni è stata messa al 2030 Audi 2030 però spero, è vero, che abbia la possibilità anche perché si deve aspettare il 2030 a Hülkenberg credo che faccia prima andare in pensione però mi spiace perché è un pilota molto solido avrebbe meritato fin qui di conquistare un podio è vero che non l'ha conquistato quando compagni di squadra ad esempio Perez o altri invece sul podio ci sono altri quindi ricordiamo che lui si è presentato in Formula 1 il primo anno a Williams una pole position in Brasile, subito da giovanissimo poi non è mai riuscito a trovare la squadra giusta per far vedere con una macchina competitiva che pilota può essere Lawson Lawson non correva dall'anno scorso ha fatto 5 gare all'anno scorso fa il primo weekend parte dal Wyoming con 60 posizioni di penalità in fondo e va a punti ma che gara ha fatto? che gara ha fatto? che gara ha fatto? lì a Lawson io credo che sarà lui a salire il Red Bull al fianco di Max ma è una cosa che sappiamo e ci dicono già da prima di questa gara certo è che questi risultati non fanno che consolidare la voglia adesso ci dice un po' di una divisione onda che vorrebbe spingere Yuki che non demerita però io credo Lawson sia un po' più attrezzato anche a livello di larghezza di spalle per stare con Max non so certo è che se Yuki non sale diventa si può sempre sperare che Lawson fallisca per lui un'opportunità però questo non è scritto da nessuna parte che sia effettivamente così mi raccontiamo un po' raggiopato questi i soborghi di Austin qui è una casa abbandonata delle case questa è vissuta qui c'è Something Cool Studios una cosa di figo un po' di residence un po' classici proprio stile americano dei soborghi Mexican restaurant speedy stop la benzina siamo circa quasi un euro al litro poco meno di un euro al litro è aumentata anche qua questi macchinoni che hanno tutto l'intorno è così va bene guarda il cuore qua occio che mi cade il telefono qui vediamo parrucchiere water straight adesso dovremmo passare sul ponte dei pipistrelli che è dove si chiama Labat City Austin Labat City perché c'è un ponte dove la sera sì più o meno verso quest'ora tu ci passi e volano milioni di pipistrelli eh migliaia parla di un milione e mezzo di pipistrelli presenti in questa zona c'è un'ora dove dove tutti vanno al ponte per vedere questo muro non so se ci passiamo magari li vediamo qui c'è la la zona ancora diciamo dal fiume in poi poi arrivano i grattacieli qua qua la zona anche di studio di tattoo non è il ponte dei pipistrelli però questo quello di fianco vabbè e poi Bat City Batman anche colapinto eh mamma mia colapinto quelli che sono partiti dietro a parte Hamilton che l'ha messo in ghiaia colapinto anche partiva dietro a Albon Albon adesso adesso vedete la formula quanto va veloce è incredibile quanto va veloce la formula perché eh Albon pilota che consideriamo bravo quando è stato in Red Bull comunque ha retto abbastanza poi è andato un po' in crisi ma stava facendo due podi quello in Brasile poi il contatto con Lewis Hamilton che è stato penalizzato eh stava facendo ha fatto un po' odio eh secondo me non stava facendo male con la Red Bull sicuramente stava facendo meglio di Gasly eh però poi ha deciso di prendere Perzi per essere un po' più tranquilli eh eppure poi arriva con l'apinto e con l'apinto con la macchina nervosa nel weekend cosa ti fa? va a punti e fa anche il giro veloce che non so perché anzi lo so perché perché c'è la lotta da punti costruttori in quella zona lì di tra l'Alpina la Williams eh anche loro sono in lotta per la posizione perché sono milioni eh Ocon l'hanno fermato per farsi dare il punto Ocon però il punto non l'ha preso perché non è entrato nei primi dieci ah no non stiamo entrando dalla zona della del ponte di Pipistrelli il ponte di Pipistrelli è dietro quei palazzi di là è dietro di là ma siamo adesso abbiamo qua stanno costruendo queste due casette siamo adesso passiamo il ponte lì sotto passiamo sotto l'autostrada giriamo a sinistra e siamo e siamo arrivati in albergo va bene va bene qui hanno tutti dei macchinoni guarda se non c'è una macchina piccola Uber guarda e quindi bravi bravissimi Hulkenberg Glowson colapinto veramente secondo me uno di questi meriterebbe di essere drivers of the day insieme a pari di Charles poi Piastri spento mai acceso ha fatto una cosa intelligente la McLaren ha chiesto a Piastri di rallentare perché con i cinque secondi di penalità Norris finiva anche dietro a Piastri e quindi gli ha chiesto a Piastri di non spingere quantomeno non ha perso quei punti con con il compagno di squadra Norris poi è un posto da colazione he hop dove fanno le frittate ecco guardate adesso siamo abituati anche noi se vai a Milano prassi così adesso ci sono la differenza è che qua te li tirano su in sei mesi guarda qua un po' di traffico sono arrivato dai avevo tante cose da dire non so se lo dette tutte la voce è quello che è loce, rauca, delfine poi la luce appena va via il sole diventa buio di colpo eh e la voce è quello che è domani mattina si parte per Città del Messico e VAMOS VAMOS AMIGOS VAMOS 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 VAMOS